Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 175esima puntata del podcast di Marcos Box a commentare con voi le principali notizie dal mondo del software libero open source della settimana appena trascorsa. E non è stata una settimana molto piacevole dal punto di vista informatico, perché nella serata del 29 marzo è stato un alert di sicurezza che ha scatenato il panico e lo sconforto praticamente in tutte quante le distribuzioni Linux ma soprattutto la paura per tutti quanti i sistemisti Linux che hanno cercato di rincorrere le notizie, capire i da farsi, che cosa fare insomma sono stati dei momenti concitati nella serata di ieri sera. Di che cosa riguarda questa alert di sicurezza? Il ricercatore in ambito di sicurezza Andres Fraund ha segnalato che il repository su GitHub DXZ è stato compromesso da una backdoor che può colpire tutto quel software che si basa sulla libreria software LibLZMA. Questa compromissione può a sua volta andare a influire sui login sicuri della Shell sulle distribuzioni che eseguono SystemD. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire un po' che cos'è XZ, che cosa fa questa backdoor e perché è preoccupante. XZ è un formato di compressione dati di uso generalistico che praticamente si utilizza in quasi... anzi praticamente tutte le distribuzioni Linux si utilizza sia nei progetti comunitari che nelle distribuzioni commerciali. Essenzialmente che cos'è? È un software che aiuta a comprimere e poi decomprimere i formati di file di grandi dimensioni in dimensioni più piccole e quindi più facilmente gestibili per la condivisione. Che cosa ha fatto l'attaccante? L'attaccante è andato a pubblicare un contributo all'interno del codice della versione 5.6.0 di XZ, versione che è stata rilasciata a febbraio 2024, ad aggiungere una backdoor che può essere sfruttata per poter avere un accesso remoto completo ai sistemi degli utenti ignari che hanno installato questo pacchetto. La versione dannosa va a interferire con l'autenticazione in SSHD tramite il sistema di SSA che è il protocollo comunemente utilizzato per connettersi in remoto ai sistemi e SSHD è il servizio che va a consentirne l'accesso. Nelle giuste circostanze questa interferenza potrebbe potenzialmente consentire a un malintenzionato di violare l'autenticazione in SSHD e ottenere l'accesso non autorizzato all'intero sistema da remoto. Quindi capite bene che è una cosa molto grave, specialmente per chi gestisce server. Che cosa è successo? È successo, vi dicevo, che la scoperta è stata fatta soltanto adesso, ma questa backdoor è presente da febbraio 2024. C'è stata poi anche una minor release di XZ. E quindi potenzialmente tutti quanti gli utenti che hanno aggiornato questo pacchetto si ritroveranno, si sono ritrovati per un mese con questa backdoor attiva sul proprio computer. Che cosa hanno detto i principali manutentori delle distribuzioni Linux? Beh, stanto a quanto dichiarato da Debian, al momento non risulta coinvolta nessuna versione stabile della distro perché i pacchetti compromessi facevano parte delle versioni, quelle Testing, Unstable e Experimental di Debian per le quali necessitate di fare un aggiornamento della vostra macchina perché i mantener hanno provveduto a ripristinare una versione precedente di XZ che è esente da questa backdoor. Quindi se siete su Debian, correte, e siete su Debian Testing, Unstable e Experimental, andate ad aggiornare il vostro sistema perché Debian ci ha già messo una pezza. Addirittura stavo leggendo poi nei commenti che pare che in Debian stanno considerando addirittura di fare un upgrade alla versione 5.2, quindi ancora precedente, perché sembra che questo tizio che ha caricato questo codice malevolo era da parecchio tempo che andava a bazzicare fornendo contributi. Quindi per evitare problemi effettivamente fanno bene a retrocedere a una versione ancora precedente. Quindi GG per Debian. Red Hat ha anche intervenuto sull'accaduto pubblicando un avviso di sicurezza per Fedora Linux 40, la beta che è stata rilasciata, e Fedora Roid. Hanno effettuato anche loro il rollback alla versione 5.4, a breve per Fedora Linux 40 arriveranno le ISO aggiornate. Per quanto riguarda Fedora Roid, una volta riportato anche per questo caso la versione precedente di XZ, perché ancora in queste ore stanno provvedendo a fare tutto, le istanze di Fedora Roid potranno essere tranquillamente distribuite. Per quanto riguarda invece OpenSUSE, il problema riguarda ovviamente le versioni quelle rogging di OpenSUSE, cioè ThumbbellGrid e OpenSUSE MicroOS, che purtroppo, essendo distribuzioni che si sono aggiornate praticamente subito, hanno aggiornato praticamente subito il pacchetto, sono state affette dalla backdoor praticamente dal 7 di marzo, perché è dal 7 di marzo che hanno iniziato a distribuire questo aggiornamento. Ovviamente anche in questo caso i manutenitori di OpenSUSE hanno effettuato il rollback del pacchetto, quindi invito è quello di aggiornare le vostre macchine. Infine anche il team di sicurezza, il team di Arch Linux, ha lanciato l'alert, perché Arch è una distribuzione che aggiorna subito, però ha detto loro che su Arch non dovrebbero esserci problemi, perché Arch non collega direttamente OpenSSH a LibZF, e quindi questo vettore di attacco non è possibile. Restiamo a parlare di sicurezza informatica parlando adesso di applicazioni malevoli presenti sullo Snap Store e del fatto che Canonica finalmente ha cercato di trovare una soluzione che può riuscire a mitigare un po' il problema. Negli scorse settimane lo Snap Store era stato attaccato da vari malintenzionati che avevano caricato applicazioni malevoli che si fingevano applicazioni per la gestione di portafogli criptovalute. Quindi il team di Canonical, vista l'entità e la pericolosità di questo danno, hanno cercato di monitorare tutte quante le applicazioni che sono state caricate negli ultimi mesi per cercare di trovare delle potenziali applicazioni dannose, però questo primo tentativo di mitigare il problema si è rivelato inefficace. Adesso hanno deciso di agire diversamente. Per mitigare il problema come misura immediata, hanno deciso di cambiare la modalità di registrazione dei nomi per le nuove applicazioni caricate sullo Snap Store. Adesso quando si registra il nome di una nuova applicazione verrà richiesto di compilare un apposito modulo inserendo il nome dell'applicazione e un commento sul scopo e sulla natura dell'applicazione stessa. Una volta fatto, gli ingegneri di Canonical provvederanno ad esaminare le informazioni fornite e valuteranno le azioni da intraprendere se ritengono che ci sia qualcosa di sospetto. In questa fase gli ingegneri di Canonical potranno contattare gli editori chiedendo maggiori informazioni. Se questa richiesta del nome supera i controlli, il nome verrà concesso per lo Snap Store. Se si sospetta che lo Snap a cui è rivolta la richiesta del nome sia dannoso oppure sia correlato ad un portafoglio criptografico, la richiesta del nome verrà rifiutata. E quindi si bloccherà tutta la procedura. Il processo di autorizzazione durerà al massimo due giorni lavorativi da quando è stata fatta la richiesta. Riusciranno quelli di Canonical con questa mossa a mitigare il problema? Spero di sì perché non ci sta facendo una bellissima figura Canonical sotto questo punto di vista. Qua vanno prese le misure drastiche. A questo punto anche quello di vietare applicazioni per la gestione di criptovalute è una scelta drastica ma doverosa da fare anche perché c'è del penale. Quei poveretti che hanno scaricato applicazioni tuffe per la gestione di criptovalute dallo Snap Store si sono ritrovati con i conti prosciugati. Oddio, non è che uno ci piange la notte per le cripto perché sapete bene, sapete come lo penso sul mondo delle cripto, ne ho parlato già diverse volte in passato. Per me è tutta speculazione quindi se ci perdono gli speculatori a me non è che mi piange il cuore, posso andare a dormire tranquillamente la notte. Però effettivamente è un problema che va risolto da parte di Canonical. E restando sempre in ambito store di applicazioni, anche Flattab ha annunciato, anzi non ha annunciato perché ha agito direttamente senza rilasciare attualmente nessun comunicato stampa, ha introdotto nelle scorse ore una modifica che va incontro ai legittimi dubbi da parte degli utenti in merito alla sicurezza delle applicazioni presenti sul proprio repository. Adesso visitando il sito internet di Flattab è possibile visualizzare di sotto del nome di ogni applicazione un segno di spunta che ci informa se la proprietà del ID dell'applicazione è stata verificata o no. In questo caso potete vedere nell'esempio c'è quella di Flattapack di Google Chrome che non è verificato, quello di Firefox che è verificato. Adesso quindi hanno introdotto all'interno dello store il concetto di applicazione verificata. Praticamente un'applicazione verificata è un'applicazione che viene pubblicata in Flattab dal suo sviluppatore originale o da una terza parte che è stata approvata dallo sviluppatore. Flattab verifica l'identità dello sviluppatore utilizzando il ID delle app e il sito web oppure il profilo dello sviluppatore se è su un sito di hosting del codice sorgente. Quindi non significa che le applicazioni non verificate siano potenzialmente dannose. Perché di fatto sono applicazioni come Google Chrome, sono applicazioni anche Bitwarden e compagnia bella. Quindi sono applicazioni che comunque sono rodate, sono da diverso tempo che vengono mantenute aggiornate. E di fatto, ad esempio, anche sulle distribuzioni Linux generale, le applicazioni non sono direttamente dalla fonte. Quindi c'è sempre qualcuno che va a rimaneggiare, a reimpacchettare per la disto. Quindi è un problema ma non è un problema. Passatemi il termine. Quindi potete continuare a installare in soldoni le applicazioni da Flattab. Però adesso con questo bannerino avete un po' il cuore più leggero nel caso in cui state installando applicazioni quelle più comuni che sono state già verificate. Perché oggi questo è sicuro che viene dalla fonte. E per venire in conto a tutti quanti gli utenti paranoici hanno anche aggiunto un'opzione alla riga di comando che serve per aggiungere i repository di Flattab. Questa opzione consente di andare a specificare a Flattab, di andare a installare soltanto le applicazioni che sono state verificate su Flattab. Quindi non potete instagare applicazioni, non verificate sulle macchine a cui aggiungete questa riga di codice. Quindi se voi siete sistemisti e volete stare proprio in petta cristo, come si dice dalle mie parti, aggiungete questa riga, questa opzione e sulle macchine che gestite state sicuri che non possono andare a fare danni. Perché hanno aggiunto questo e perché hanno aggiunto in maniera silenziosa senza dire niente? Beh, come hai fatto notare nei commenti, non è che qua ci sta qualche patata bollente che scoppierà prima o poi anche su Flattab? Boh, non lo so, a questo punto mi viene un po' la paura perché, visti temi con tutti questi problemi di sicurezza, qualche domandina me la faccio. Passiamo adesso a parlare di distribuzioni Linux. Questa settimana c'è stato il rilascio della versione beta di Fedora Linux 40. Le novità principali di Fedora Linux 40 sono l'aggiunta di PyTorch, il popolare framework di machine learning open source, che adesso è disponibile direttamente per l'installazione con un semplice comando. Aggiunto poi, ovviamente, sono stati aggiornati i principali desktop environment e l'edizione principale di Fedora viene rilasciata con Gnome 46. La versione con KDE viene rilasciata con Plasma 6 in versione soltanto Wayland, quindi abbiamo soltanto la sessione Wayland preinstallata. Ovviamente le applicazioni X11 continueranno a funzionare comunque con Wayland tramite XWayland e, se volete, potete installare X11, cioè potete abilitare la sessione X11 in una seconda battuta. Per quanto riguarda invece gli aggiornamenti sotto il cofano, troviamo Podman 5 per la gestione di container, il framework per l'acceleratore MD-ROC-CM, che è stata aggiornata alla versione 6, LL-VM alla versione 18 e GCC alla versione 14. Sulle pagine di Marcosbox trovate il link per poter scaricare la ISO aggiornata. Restando in tema distribuzioni Linux, c'è una notizia molto interessante per tutti quanti gli utenti Ubuntu all'ascolto. Canonical ha deciso di estendere il supporto a lungo termine a 12 anni anche per Ubuntu 14.04 LTS. Sapete bene come funziona il supporto esteso di Ubuntu? Abbiamo un supporto esteso per versione LTS che è di 5 anni. Con Ubuntu Pro questo impegno può essere preso a 10 anni, sia per i ripositori principali che per gli universe. E con un abbonamento che di fatto è gratuito per gli utenti domestici, quindi se volete potete utilizzarlo sulle vostre macchine casalinghe. Ovviamente a pagamento per le aziende e quant'altro. Adesso è stata data un'opportunità in più che è stato introdotto un supporto esteso di altri due anni aggiuntivi chiamato Legacy Support, che in questo caso può essere anche abilitato su Ubuntu 14.04 LTS. Quindi non soltanto per le nuove versioni di Ubuntu, ma anche per quelle vecchissime, perché di fatto la 14.04 è stata rilasciata nel 2014. Quindi GG per Canonical che si sta prendendo un impegno di questo tipo. Ovviamente è a pagamento, però non è da poco andare a competere con altri big del settore come Red Hat. Passiamo adesso a parlare di Microsoft e dei Windows Subsystem per Linux. Microsoft sta pensando di potenziare ulteriormente il Windows Subsystem per Linux aggiungendo un'interfaccia grafica per la gestione delle distribuzioni installate. La notizia arriva dalla pagina GitHub di Microsoft Dev Home, dove è stato pubblicato anche un mock-up dell'interfaccia grafica e una lista delle funzionalità che gli sviluppatori intendono aggiungere. Con questa possibilità sarà possibile gestire praticamente tutte le distribuzioni installate, aggiornarle, metterne delle nuove, arrestare macchie virtuali, visualizzare lo stato di ogni distribuzione, se è in esecuzione, disattivato o quant'altro, disinstallare ovviamente le distribuzioni, impostare quella predefinita per la nostra macchina, importare distribuzioni Windows Subsystem per Linux da VHD o da TAR, esportarle in VHD o TAR, visualizzare la RAM e le CPU totali utilizzate da Windows Subsystem per Linux in quel momento, insomma, si possono fare tante belle cose. Secondo me Microsoft sta facendo una mossa giusta, andando a migliorare ulteriormente il servizio, e a strizzare così l'occhio a tutti quanti gli sviluppatori che necessitano del Windows Subsystem per Linux su Windows 11. GG per Microsoft, è una bella notizia questa qua, per tutti quanti gli sviluppatori, io non lo utilizzo, quindi a me non benefica niente, come penso anche a moltissimi di voi, quindi noi siamo utenti che se abbiamo necessità di utilizzare Linux, utilizziamo Linux, non utilizziamo queste scorciatoie. Vabbè, però è una notizia interessante da riportare. Una guerra si può combattere non soltanto dal punto di vista cinetico, ma anche dal punto di vista commerciale e tecnologico, e in questi ultimi anni si sta combattendo un conflitto commerciale e tecnologico tra Stati Uniti e Cina, con gli Stati Uniti che nel corso degli ultimi anni hanno imposto una serie di pesanti sanzioni ad aziende di origini cinesi, aziende tecnologiche di origini cinesi, che in alcuni casi hanno causato anche dei enormi danni economici a queste aziende. Basti pensare ai vari ban che sono stati affibbiati a Huawei o a ZTE, che sono entrambe grandi colossi cinesi della tecnologia, che per via dei ban imposti dagli Stati Uniti hanno visto crogare lo mercato di prodotti anche nel territorio europeo, non soltanto nel territorio statunitense. E adesso la Cina ha deciso di rispondere, ha deciso di rispondere in una maniera un po' particolare che adesso andremo a vedere. La Cina ha introdotto una serie di linee guida volte a eliminare gradualmente l'utilizzo di microprocessori statunitensi, quindi prodotti da Intel o AMD, sui personal computer e i server governativi. Verranno predilette soluzioni nazionali, quindi aziende cinesi del caipo di Huawei e Pythium prenderanno il posto di AMD e Intel. Il divieto riguarderà non soltanto i computer dei server governativi, ma anche per tutte quante quelle imprese a controllo statale. E sapete bene che imprese a controllo statale in Cina ce ne sono a bizzeffe. Le linee guida degli appalti, oltre a vietare l'utilizzo di hardware statunitense, hanno deciso di vietare anche l'utilizzo di sistemi operativi proprietari statunitensi, quindi Microsoft Windows non potrà più essere utilizzato sui computer governativi cinesi e verranno adottate soluzioni con sistemi operativi basati su Linux. Questa fase, questa stoppa all'utilizzo di tecnologie statunitense si dovrà completare entro il 2027, quindi la Cina si è data tre anni per compiere questo grande passo verso l'indipendenza tecnologica. Quindi la Cina diventa praticamente il primo paese a avere un'autorchia tecnologica impensabile fino a qualche anno fa, ma adesso fortunatamente grazie ai progressi che hanno compiuto nello sviluppo del software con le varie distribuzioni Linux che ci sono state sovvenzionate dal governo, ma anche a livello tecnologico, si sono avvicinati e adesso possono compiere questo importante passo. Perché è importante questa notizia? Perché l'ho pubblicata sulle pagine di Marcosbox? Perché un'adozione in grande scala di sistemi operativi basati su Linux all'interno dei territori cinesi significherà, a maggior ragione, maggior contributo al kernel Linux, quindi maggior contributo, maggiori novità che arriveranno, migliorie che arriveranno all'interno del codice sorgente di Linux e dei progetti open source in generale. Quindi per noi è una cosa da stare a guardare in maniera attenta perché ci saranno molto probabilmente delle ripercussioni positive da questo conflitto tecnologico tra Cina e Stati Uniti. Ultimo argomento di questa puntata riguarda un articolo esperienziale che ho pubblicato sulle pagine del blog dal titolo da Android a iOS storia della migrazione di un vecchio nerd. Perché, ebbene sì, sono passato da iOS dopo anni di sistemi operativi Android. Quindi io vengo dalla vecchia scuola, ho iniziato con l'HTC Desire che è un telefonino che ho, ce l'ho ancora, funziona ancora, a parte i dispositivi che c'ho qualche piccolo problemino, però funziona ancora, ce l'ho caricato nel corso degli anni le più disparate ROM da sopra. Poi ho posseduto un Nexus 4, anche in quel caso l'ho tirato per anni con ROM di terze parti, quindi mi sono divertito a fare modding più ne rapi ne metta. Per poi passare a dispositivi con Google One, altre ROM di Lenovo, di Motorola, ho posseduto infine l'ultimo dispositivo Android che ho posseduto, è un Mi 10 Lite, quindi la ROM di Xiaomi. Quindi sono un utente proprio storico di Android, sono un utente anche della prima ora di Android. Però ho deciso ugualmente di mettermi in gioco anche con me stesso. Nell'occasione che si era rotto il telefono, ho deciso di puntare su un telefono di fascia un po' più alta, per una questione puramente di, diciamo così, durata nel tempo, perché un dispositivo, diciamo, un dispositivo più costoso ti dà maggior sicurezza di avere una durata nel tempo per quanto riguarda sia i componenti hardware che anche gli aggiornamenti del sistema operativo. Quindi ho deciso di provare iOS anche perché se dobbiamo criticare i sistemi operativi alternativi, se dobbiamo criticare iOS, dobbiamo fare con condizioni di causa. Io ho sempre criticato iOS. Ogni qualvolta mi sono trovato quei cinque minuti a smanettare con i dispositivi di persone che conosco e che hanno da anni dispositivi con iOS, mi sono sempre trovato un po' impacciato nell'utilizzo del sistema, mi sono trovato un po' costretto. Però ho deciso ugualmente di dargli una chance di capire su lungo termine se veramente questo sistema operativo fa per me. Nel caso, avendo acquistato un iPhone, sapete bene come funziona con gli iPhone, sono praticamente degli asseni circolari, quindi se mi stancherò da qui a un anno potrò vendere senza perderci granché, quindi poter tornare ad Android nel caso. E vabbè, insomma ve lo racconto, vi racconto tutto questo, vi racconto che cosa mi piace di iOS, che cosa non mi è piaciuto di iOS, che cosa mi manca di Android, ve lo racconto tutto negli articoli che ho pubblicato sul blog. Vi invito numerosi a lasciare un commento, a raccontarmi la vostra esperienza, se anche voi avete fatto la migrazione da Android a iOS o viceversa, o se magari voi avete fatto la migrazione da Android a iOS e vi siete pentiti e siete tornati nel giro di poco tempo da Android. Quindi, libero sfogo ai vostri commenti, alle vostre esperienze, perché confrontarsi su questa cosa è bello. Per chi me lo si stesse chiedendo, sono passato a un sistema chiuso, quindi rinnego i miei principi di libertà e quant'altro, no. Non rinnego i miei principi di libertà, sono un utente Linux, ne vado fiero di essere un utente Linux, sono anche un utente Linux cacca cacchio, sono un utente Linux, anzi, sono un utente di software libero open source, apprezzo i software libero open source, gli straconsiglio a tutti quanti, li utilizzo, però, dato telefonia, non è proprio, non è proprio vero che Android è un sistema operativo completamente libero. Vi invito, riguardo, a leggervi anche quel che è pubblicato sul sito della GNU Foundation, l'articolo di Richard Stolman, riguardo ad Android. Perché di fatto, quando noi parliamo di telefonia, non parliamo di sistemi liberi al 100%, perché abbiamo sì che nel Linux alla base, però, tutto il ecosistema, tutto quello che ci gira attorno, non è libero, perché abbiamo blob proprietari, abbiamo rom, che non sappiamo di fatto che cosa vanno a fare, a livello di tracciamento e quant'altro, abbiamo poi, soprattutto, utilizziamo applicativi di terze parti proprietari, utilizziamo i servizi di Gmail, di YouTube, di altri gestori di posta elettronica, quindi, alla fine, noi siamo costretti a utilizzare per la maggior parte del tempo applicazioni proprietarie per poter fare quello che ci interessa. E, vabbè, è una cosa che magari andremo successivamente ad analizzare anche sotto questo aspetto, sulle pagine del blog, farò magari qualche articolo di approfondimento per dirvi come la penso riguardo ad Android in generale. Lasciate un commento, ripeto, lasciate un commento, e sono contento di leggere la vostra opinione, anche se molti di voi già mi hanno criticato su altre piattaforme, quindi, sono contento di leggere anche eventuali insulti. Ecco, questa ultima notizia si conclude qui questa 175esima puntata del podcast di Marcosbox. Prima di lasciarvi, fatemi fare tanti auguri a Marcosbox, perché oggi, il giorno che sto registrando questa puntata, 30 marzo 2024, Marcosbox compie la bagazzia di 15 anni, quindi, sono 15 anni che Marcosbox è all'attivo, sono 15 anni soprattutto che voi mi supportate e mi sopportate, mi leggete, condividete i miei articoli e quant'altro. Quindi, grazie del vostro affetto, grazie per questi 15 anni assieme sulle pagine di Marcosbox e un abbraccio a tutti quanti, facciamo magari, mi faccio, anzi, oggi mi vado a comere una piccola tortina, ci metto la candelina e ci metto, ci faccio pure la foto che la pubblico sui social. Prima di lasciarvi, come sempre, vi ricordo che potete seguirmi sui principali social, Facebook, X, YouTube, dove sono disponibili le video puntate del podcast. Questa puntata poi sarà un po' particolare perché, non so se avete notato, ci sono gli stacchi in questa puntata, ho problemi con la gola, non riesco a fare discorsi più lunghi di TOT senza TOSIR e quindi ho dovuto fare, improvvisare un nuovo modo di realizzare la puntata video, ma vedremo se poi, se poi vi piace questo nuovo modo di realizzare la puntata video, vi, lo rendo predefinito. Vi dicevo, poi mi trovate sulle principali piattaforme di podcasting, mi trovate su LinkedIn con il mio profilo personale, mi trovate su Mastodon, su Mastodon 1 per la precisione e soprattutto mi trovate su Telegram con il canale delle notizie di Marcosbox, la community Telegram al quale vi invito a iscrivervi numerosi perché non si parla soltanto di Linux e un canale Telegram delle offerte Amazon con link referral ad Amazon, sapete bene come funziona, acquistando da un link referral Amazon mi restituirà una parte, quindi potete supportare i blog in questa maniera. Infine vi ricordo che potete anche supportare i blog acquistando, rinnovando la vostra VPN nella fattispecie, acquistando, rinnovando NordVPN che è il servizio VPN che io attualmente utilizzo regolarmente sia su smartphone che su computer. In basso, qui su YouTube e sulle pagine del blog vi lascio il link di affiliazione a NordVPN. lunga vita e prosperità a tutti quanti, buona Pasqua, buona Pasquetta, cercate di non mangiare troppo, fate, passate là con i vostri famigliari, con i vostri amici, come più vi aggrada. L'importante è che siate felici e in salute. Ciao ciao!